Abbiamo atteso, sperando di poter partire in presenza, ma ormai non possiamo più attendere e troppo alla voglia di tornare a guardarci negli occhi, chiacchierare, sorriderci a vicenda e camminare insieme verso Gesù, anche se a distanza, anche se attraverso lo schermo di un pc. Lo fa sapere la parrocchia Santa Maria delle Grazie riguardo alla ripartenza del catechismo online. E allora, da sabato 21 novembre, tutti collegati, riparte il catechismo ma online. Ogni gruppo, già costituito dallo scorso anno, riceverà dalle proprie catechiste il link per collegarsi alla piattaforma web che ospiterà gli incontri settimanali del gruppo. Per ora, dunque, partiranno solo i gruppi già formati. Quelli che si sarebbero dovuti costituire quest'anno, prima confessione 2021 e primo anno di cresima 2021, al momento non verranno attivati. Valuteremo in corso d'opera l'eventuale opportunità di attività mirata. Fa sapere la parrocchia Santa Maria delle Grazie ad Agropoli.